Buongiorno, ben trovati appuntamento di mercoledì. Il 14 giugno 2017 con la nostra consueta rassegna stampa che si apre come sempre nel giorno in cui si ricorda Sant'Eliseo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in Edicola. Vediamo dunque la prima pagina, partiamo dall'inserto abruzzo del messaggero, ovviamente si parla soprattutto di politica, l'analisi post-elettorale dopo il voto di domenica. Anche nella nostra regione per quanto riguarda le amministrative sindaci, commissariate tre sezioni, incagliato lo spoglio in due seggi all'Aquila e in una ad Avezzano. I conteggi finali potrebbero cambiare. Nel capoluogo Biondi, l'esponente del centrodestra, crede nel recupero. Nella Marsica, a Avezzano in particolare, De Angelis cerca l'impresa. Rebus apparentamenti in alto. Vediamo altri titoli. L'Aquila, nessuna pressione per la casa abusiva, Trifoggi subito scagionato dal GUP dell'Aquila. E poi Teramo, Brucchi e la crisi, colpa mia, ha detto il sindaco, ma mi hanno lasciato solo. E poi a Pescara, acqua dal cattivo odore, vietato l'uso alimentare in alcune abitazioni del quartiere Porta Nuova, in particolare nell'ultimo tratto di Via dei Marsi e in Via Spartaco. Vediamo altri titoli per quanto riguarda la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Un titolo che riguarda la scomparsa di Aurora, morta a 22 anni dopo lo schianto di sabato scorso, Donate le corne, indagato neopatentato, coinvolto nel sinistro. Non ce l'ha fatta questa ragazza che era rimasta ferita in maniera molto grave nell'incidente che era accaduto sabato sera. E poi si torna a parlare di politica anche nel corsivo che vediamo di spalla, tra Macron e nostalgia della vecchia, partitocrazia. E poi in fondo, fondopagina, andiamo a Giulia Nuova, scoppia un rogo, hotel evacuato. Lasciamo la prima pagina del Messaggero, andiamo a vedere le prime pagine del Quotidiano Il Centro. Partiamo dalla prima pagina di Pescara, l'acqua puzza, non bevete, la tanfo di Fogna da una condotta a Porta Nuova. Il Comune emette l'ordinanza di divieto. Poi vedete la fotonotizia, ecco gli Iron Man, uomini senza limiti, sfide a Pescara da venerdì a domenica. Torna il tradizionale ormai appuntamento nel capoluogo adriatico per questa manifestazione. E poi Montesilvano, in spiaggia i senegalesi cacciati da Via Ariosto, bivacchi sul mare, vedete anche la foto. Poi Lanciano, Aurora muore tre giorni dopo lo schianto. Spoltore, toto assessori nella giunta di Lorito Bis. In basso si parla di sport, di calcio e di calcio a 5. Calcio mancuso io, il bomber di Zeman, nasce il nuovo Pescara e c'è l'intervista al Neo Biancazzurro, l'ex attaccante della San Benedettese, che nella prossima stagione giocherà con il Pescara. E dal Pescara al Pescara calcio a 5 perché questa sera si giocherà gara 4 della finalissima playoff per l'assegnazione dello Scudetto nel massimo campionato di calcio a 5 con il Pescara che sul neutro di Ancona per via della squalifica del pala Giovanni Paolo II affronterà ancora la Luparense e 2-1 la serie per la formazione veneta e dunque Pescara che deve assolutamente vincere per arrivare a gara 5. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Teramo. Pesta il fratello per soldi arrestato, Silvi scoperta lunga storia di violenza e la vittima è stata anche gettata dal balcone. Poi il Consiglio Comunale di Teramo, Brucchi ritrova i numeri, ma la crisi non è finita. Giulianova insegna a fuoco, evacuato l'hotel Corallo in basso. Al via i concorsi per 17 primari alla ASL di Teramo sarà bandito anche quello per infermieri previsti, 10.000 candidati. E poi il trend positivo dell'Università Teramana, le matricole aumentano del 7%. Passiamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti. Il titolo principale riguarda proprio la scomparsa di Aurora, questa ragazza di 23 anni, di Palombaro, che era rimasta ferita gravemente in un incidente stradale sabato sulla Fondo Valle Sangro. E' stato fatto tutto il possibile dai medici dell'ospedale di Pescara, del reparto di rianimazione, dove la giovane era stata trasferita subito dopo l'incidente, proprio per la gravità delle condizioni. E' arrivata ieri la morte, sono state donate le corne, Paese in lutto, Parombaro in lutto, per la scomparsa di questa giovane 23enne. E poi a Chieti, cambiando argomento, il Vescovo sposta i parroci, sono state rese note tutte le nuove destinazioni. E poi vasto tragedia in auto, non fu colpa di un selfie. A Chieti, Università e Boom di matricole, anche all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. In basso si parla delle amministrative, molti volti nuovi fra gli eletti. Ortona verso il ballottaggio, San Salvo, Magnacca più forte, sindaco riconfermato con il 65% dei voti. Ad Atessa il neosindaco Borrelli al lavoro sulla nuova giunta. Borrelli, ex direttore tra l'altro del Tg1. Prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. All'Aquila caccia i voti di Trifuoggi e Silveri. All'Aquila appunto di Benedetto e Biondi andranno al ballottaggio senza apparentamenti, almeno ufficialmente. E poi comunali ad Avezzano, di pangrazio gerosolimo e polemica sui risultati. All'Aquila si parla della visita che ci sarà del Presidente della Repubblica Mattarella per la festa della Guardia di Finanza. E poi in basso si parla di università, anche numeri positivi per quella aquilana iscritti in aumento. Le immatricolazioni balzano in avanti di un più 5% rispetto al 2016. E poi a Sulmona punto nascite con poco personale. E protesta. Chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città. Tutti contrari al commissariamento. Siamo a Teramo, dove il Sindaco Brucchi incassa il proposito dei banchi della maggioranza. Giunta che probabilmente verrà comunicata nel fine settimana. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Noi restiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Ma vediamo come sempre, passiamo all'edicola nazionale. Iniziando con il quotidiano La Repubblica. Migranti, la rincorsa del Movimento 5 Stelle alla Lega. Raggi, basta profughi a Roma. Dunque si parla di elezioni, di commenti post elettorali. Ma anche di questa dichiarazione del Sindaco di Roma Raggi. Che dice, basta profughi in città. E poi in Puglia. Questo è un titolo che ritroveremo in tanti, in tutti i quotidiani nazionali. In Puglia c'è stato un altro scontro. Fratelli, treni sul binario unico. Questa volta fortunatamente non ci sono stati morti. 13 feriti, fortunatamente anche non in gravi condizioni. Ma il pensiero torna invece all'incidente di qualche tempo fa, sempre in Puglia. Quando purtroppo ci furono delle vittime. Siamo al tempo. Le leggi raggiali. La Sindaca non vuole più immigrati. E ora ora, dopo la batosta del voto, finalmente si sveglia. Scrive il Tempo. Il Sindaco che scrive al Prefetto Roma scoppia, ma fino a ieri si era vantata del suo modello di accoglienza. E poi il sondaggio d'oro per Zingaretti, 200 mila euro, li pagheremo noi. C'è questo articolo del Tempo sul Presidente della Regione Lazio. Siamo al messaggero migranti. Tensione raggi viminale. Il Sindaco scrive al Prefetto moratoria sui nuovi arrivi. E poi, vedete, altri titoli. Un titolo che riguarda anche una notizia di cronaca. Uccisa dal marito, cronaca giudiziaria, uccisa dal marito dopo 12 denunce. Condannati. I PM. Siamo alla stampa di Torino. Dalle donne ai bambini, così mercanti di uomini colpiscono anche l'Italia. Scappano da guerre e persecuzioni, dall'ISIS e dalla fame. L'ONU avete buone leggi sulle tutele, ma bisogna fare di più. E poi la campagna di grillo del Movimento 5 Stelle. Ora basta immigrati, argomenti simili a quelli portati avanti negli ultimi anni, anche dalla Lega. Siamo al Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle, così Grillo cambia le regole per scegliere meglio i candidati. Siamo al quotidiano Il Giornale, con il titolo che riguarda anche in questo caso la politica. Furbetti a 5 Stelle, titola Il Giornale, la verità sui grillini, 1 su 2. E' disoccupato. E poi anche sul giornale ritroviamo il titolo che abbiamo visto pochi istanti fa, uccisa dopo 12 denunce. Condannate anche le toghe. Siamo al Gazzettino di Venezia, vaccini il Veneto contro Roma, no all'obbligo di vaccinazione. E poi banche, la promessa del governo, il ministro Padoan, ottimista, la soluzione è vicina, garantiti, obbligazionisti, senior e depositi. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Genova è subito lite sui voti 5 Stelle. Si parla in questo caso del ballottaggio che ci sarà nel capoluogo Ligure con il centrodestra in vantaggio in una città, quella di Genova, tradizionalmente roccaforte del centrosinistra. Siamo al mattino di Napoli, inchiesta sull'ospedale di scarica Formiche al San Paolo. Il ministro della salute Lorenzin dice indegno il presidente della regione De Luca. La sanità, dice De Luca, in mano alla Camorra. E poi un titolo che riguarda il calcio, caro Insigne, la maglia di Diego Pesa perché a Napoli è in corso un dibattito sportivo su un'eventualità di assegnare la maglia numero 10 che è stata indossata da Diego Armando Maradona a Lorenzo Insigne. Che ricordiamo, lo ricorderanno molti di voi, ha iniziato, fatto il grande salto nel calcio che conta proprio 5 anni fa nel Pescara di Zeman. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, altro scontro fra treni. Ovviamente il giornale Gazzetta del Mezzogiorno analizza soprattutto cronache e fatti del sud e si parla proprio di questa strage sfiorata nel Salento. 15 feriti per un rosso ignorato, non c'è il sistema elettronico. Emiliano stop alle linee, insicure, dice il presidente della regione Puglia. E poi tensione a sinistra per i veti incrociati, parliamo di politica e Grillo e Casaleggio. Blindano, Di Maio, libero, a forza di accogliere perdono le elezioni alle comunali. I progressisti escono con le ossa rotte perché pensano più agli immigrati che agli italiani. La sinistra punita dagli elettori. Siamo al quotidiano La Verità, ha vinto il partito Basta Immigrati, non solo la Nicolini e Lampedusa, puniti nell'urna tutti i sindaci dell'accoglienza. Ad ogni costo. E poi il Veneto, vedete il titolo a centro pagina, si ribella. Ai vaccini obbligatori. Infine, lo vedete più in alto con corredo di foto, c'è un'intervista con Falonieri che dice Renzi o Salvini, il Cavaliere sarebbe Berlusconi, può fare la politica dei due forni. L'ultimo quotidiano, La Verità, che prendiamo in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. A proposito di giornali nazionali, parleremo di sport ovviamente nell'ultima parte di Mattino 6, però possiamo andare a vedere le due prime pagine del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, per vedere quali sono i titoli, gli argomenti trattati all'interno dei giornali oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere dello Sport, Rudiger, si parla del giocatore Rudiger che ha un passo dall'Inter, praticamente chiuso l'accordo, chiuso da Sabatini per il centrale. Niente assalto dell'Inter a Strotman o Nainggolan. I giallorossi, intanto parliamo della Roma, hanno ufficializzato Eusebio Di Francesco e anche il difensore messicano del PSV. Ma la notizia del giorno è quella proprio della firma di Eusebio Di Francesco, un pescarese doc che guiderà la Roma, che si siede sulla panchina della Roma. Ricordiamo che Eusebio Di Francesco, come così per insigne da calciatore, aveva ottenuto i primi grandi risultati da allenatore sulla panchina del Pescara, vincendo un campionato di Lega Pro. In alto Douglas Costa Juve incontro a Torino, il brasiliano chiede 7 milioni a stagione. Vediamo anche la prima pagina di Tutto Sport, mi rivolete, si parla del portiere prigioniero del Manchester City che cerca una squadra che lo faccia giocare. Il Torino non ha ancora ottenuto, intanto il via libera per Siriguide è pronto a rituffarsi sull'inglese Zapata, spalla di Belotti. Ecco perché si può fare. E poi in alto Douglas Costa a fondo Juve e oggi ci sarà l'annuncio, sempre restando in casa della vecchia signora, per l'arrivo dell'attaccante Schick dalla Sampdoria. Lasciamo anche i quotidiani sportivi, possiamo tornare dunque ai giornali di casa nostra. Abbiamo visto nella primissima parte di mattino 6 i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Possiamo andare a vedere le pagine interne, ripartendo dal quotidiano Il Centro, Abruzzo alle urne, vincitori e vinti nella corsa elettorale. Guidano la classifica i sindaci riconfermati a San Salvo, Tiziera Magnacca e a Spoltore, Luciano Dilorito. Tra gli sconfitti il Democratico D'Alessandro, l'ex procuratore Nicola Trifoggi. E poi le imprese aspettano i fatti a partire dalla pressione fiscale, questo chiede soprattutto Confindustria. E poi parla il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che dice l'Aquila è un laboratorio, l'unità è una strada obbligata. E poi in basso, cresciamo ma la legge elettorale non funziona, dice Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. E poi c'è l'analisi del voto del centrodestra affidata a Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia. Il centrodestra è di nuovo una comunità di popolo, ha detto Pagano. Noi ieri siamo andati ad ascoltare proprio il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, e per il Movimento 5 Stelle il consigliere regionale Domenico Pettinari. Proprio per un'analisi sulle amministrative di domenica scorsa possiamo vedere il servizio. Il centrodestra tiene in Abruzzo, conquista anche dei comuni importanti e soprattutto all'Aquila è più che mai in gioco Pagano per il ballottaggio. Il centrodestra è vivo, anzi più vivo di prima, anzi direi quasi che si sia rigenerato. In particolare Forza Italia esprime delle donne che in questo momento si stanno facendo valere alla grande. Voglio fare due esempi di cui sono personalmente orgoglioso. Tiziana Magnacca a San Salvo, comune a doppio turno, dove da uscente rivince addirittura con oltre il 65% dei suffraggi, quindi sostanzialmente ha asfaltato tutti i suoi avversari e quindi Tiziana Magnacca rivince alla grande. Antonella Di Nino, Prato-La Pelligna, diventa sindaco in un feudo della sinistra. Il centrodestra quando è unito e vediamo l'Aquila, ma non solo l'Aquila, dimostra di essere in grande partita, dimostra di essere vivo competitivo. Lei sta anche lavorando come coordinatore regionale di Forza Italia ad una cosa che sarebbe quasi clamorosa, difficile da realizzare, ma non impossibile far tornare in Abruzzo il Presidente Silvio Berlusconi. Per la verità ci ha tenuto a dire che ho richieste da tutta Italia, adesso vedremo se sarà possibile. Comunque la richiesta c'è stata da parte mia, io mi auguro che possa venire per sostenere Biondi fino all'ultimo voto. Io sono convinto comunque che sia Biondi all'Aquila che De Angelis ad Avezzano possano farcela. Non è stato un risultato entusiasmante quello delle ultime amministrative per il Movimento 5 Stelle? Nei comuni in cui si è votato due giorni fa, consigliere Pettinari, quali i motivi di questo risultato non esaltante? Io vedo che i dati sono completamente diversi, ad Avezzano noi non c'eravamo e abbiamo messo un consigliere comunale, all'Aquila il Movimento 5 Stelle non esisteva e ha messo un consigliere comunale, ad Atessa non esisteva e abbiamo messo un consigliere comunale, a Spoltore avevamo un consigliere comunale e ne abbiamo messi dentro due, a Tortoreto e a Martinsicuro non esistevamo e abbiamo messo un consigliere nei rispettivi due comuni. Quindi il Movimento 5 Stelle ieri non c'era all'interno di queste amministrazioni e oggi c'è, questo è il dato. Poi, se dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, che noi ci presentiamo da soli con un'unica lista contro dieci liste in coalizione che stanno dall'altra parte, sicuramente è una competizione sleale. Questo è il servizio con l'analisi del voto affidato ai due esponenti di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti ancora con le pagine del centro, siamo la cronaca regionale, catastrofi naturali che fino hanno fatto i fondi europei, questa è la domanda con tanto di interrogazione parlamentare dell'esponente del Movimento 5 Stelle Castelli. E poi ricostruzione, l'Unione Europea si fa lo sconto, denuncia del Movimento 5 Stelle che vota comunque a favore per senso di responsabilità. E poi turismo, Abruzzo Open Day vinta la sfida, parla il direttore del settore turismo della regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, che ieri in conferenza stampa ha fatto il bilancio positivo per l'Abruzzo Summer Open Day, oltre 170 mila visitatori. Andiamo avanti e iniziamo con le cronache dalle nostre province. Partiamo da Pescara, l'evento dell'estate, torna Ironman, affari per il turismo, conto alla rovescia per la manifestazione, sfida per 1500 atleti. Poi ci sono le storie, le testimonianze, Ciavattella il professionista in gara contro i miei limiti, poi andrò negli Stati Uniti, Tieri, io veterinaria tra nuoto, bici e corsa, una vita da sportiva. Andiamo avanti, allarme a Porta Nuova, acqua maleodorante, vietato Berla, Tanfo di Fogna, dalla condotta tra via Spartaco e via Dei Marsi, l'ACA provvede allo Spurgo e fa le analisi. Oggi i risultati, situazione comunque che in via di miglioramento. Andiamo a vedere il servizio. Va verso la normalizzazione e la situazione sulla qualità dell'acqua delle condotte idriche di via Dei Marsi, via Spartaco, nel quartiere Porta Nuova Pescara. L'ACA ha provveduto a compiere tutte le operazioni di Spurgo e le verifiche necessarie sulla zona interessata da cattivo odore, proveniente dalle tubature. Dopo il lavaggio della condotta che va avanti dalla notte scorsa, l'acqua esce dai rubinetti pulita, è oggi priva di cattivo odore. A titolo però precauzionale è stata emessa dall'ACA un'ordinanza sindacale che dispone il divieto di utilizzo dell'acqua a fini potabili, finché il riscontro delle analisi non consentirà di stabilire la potabilità dell'acqua erogata. Le utenze interessate dal provvedimento sono una quindicina. Le risultanze dei campionamenti delle analisi si avranno tra circa 24 ore. Andiamo avanti, Ateneo e Boom di matricole. Siamo a Pescara, ho superato anche il Politecnico, l'Annunzio Superstar, l'Annunzio Università, l'Annunzio di Chieti Pescara. Poi in basso Galeone, Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, torna in campo per i terremotati, partita del cuore il 29 giugno allo stadio Adriatico, tra l'Abruzzo All Star e la squadra Spettacolo. Proseguiamo il piano per la città del futuro, il documento sul traffico riaccende la lite sulla filovia, scontro in consiglio comunale alla presentazione del progetto per la mobilità, critici comitati cittadini a difesa della strada parco, favorevoli i sindacati. In basso si torna a parlare del progetto presentato due giorni fa per il nuovo stadio di Pescara, previsti anche 100 negozi, i consiglieri di centrodestra esprimono dubbi sulla proposta, vogliamo capire, dicono cosa si nasconde. E poi il nuovo ponte, il ponte Flaiano, che verrà inaugurato domani sera, il Flaiano è opera nostra, lo inauguriamo prima noi, e poi le forze di opposizione di centrodestra della ex Giunta Mascia rivendicano la paternità dell'opera e oggi anticiperanno la cerimonia. Domani il taglio del nastro ufficiale con il ministro del Rio. Proseguiamo i problemi della scuola, sit in per il posto fisso, i decenti precari scendono in strada, i 43 professori riuniti sotto la sigla Nastrini Liberi Uniti manifestano con estricioni e megafoni sotto la sede della RAI. E poi caos settimana corta, i genitori minacciano di trasferire i figli, il classico di Pescara non si placa, in questo caso la protesta, vogliamo un referendum, siamo pronti a non pagare più il contributo volontario. Andiamo ancora avanti, Falcone, vent'anni di dolcezza, festa il nuovo Capannone, l'azienda nata nel 1997, festeggia questo traguardo fatto di dolci successi, è proprio il caso di dire. In basso l'alternativa al mare, Campus Dadino per i bambini fino a Ferragosto, dunque un'opportunità per chi ha problemi nel ovviamente star dietro ai figli per problematiche relative al lavoro. Pronto lo Stadio del Mare in ritardo di un anno, siamo a Francavilla, la struttura al foro con forma di scafo are nato sulla battigia, verrà inaugurata il 30 giugno con il primo atto dello Sport Fitness Festival, sempre a Francavilla un'altra raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà. A San Giovanni Teatino, asilo ai privati, basta demagogie, il sindaco Marinucci assicura che il nido non chiuderà. Venerdì ci sarà una giornata di sciopero. E poi risparmio energetico, vedete in basso a fondo pagina, Anter coinvolge a Francavilla 100 mila alunni, è sempre a Francavilla, nominato Don Andrea Sciascia come nuovo parroco della Chiesa degli Angeli Custodi. Saltiamo l'inserto che riguarda il lavoro per arrivare alla pagina di Montesilvano, immigrazione e l'emergenza, cacciati da via Riosto. Gruppi di senegalesi bivaccano in spiaggia, leggiamo qui dal centro, dopo il blitz nelle palazzine ci sono famiglie che non sanno ancora dove dormire, SOS di balneatori e operatori turistici. Il comune cerca un garante per i diritti dell'infanzia, domande fino al 28 giugno e poi in basso Montesilvanesità, mostra di foto e ricordo, questo scioglilingue torna dall'8 al 10 luglio, la rassegna lanciata dall'ex comandante dei Vigili Urbani Sergio Agostinone, proprio per ribadire e rivendicare di appartenere proprio alla comunità di Montesilvano. Siamo a Spoltore, toto assessore al via e Pietrangelo il volto nuovo, già quasi del tutto definito il diloritobis, dopo la vittoria alle urne di domenica, tra le papabili al ruolo di vice c'è la prima degli eletti, Chiara Trulli, Matricciani, presidente. E' sempre a Spoltore, fermare la schiavitù del gioco, domani i risultati del progetto Stop the Game contro la ludopatie. In basso a Città Sant'Angelo, sussidi alle famiglie povere, le domande ai servizi sociali, a Cappelle sul Tavo, da domani il centro di Cappelle sarà vietato ai mezzi pesanti. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, a Rigopiano braccio di ferro fra avvocati, parliamo ovviamente della vicenda giudiziaria che riguarda la tragedia del 18 gennaio scorso, dove, vi ricordo, ci furono 29 vittime, illegale della famiglia Feniello contro l'istanza della difesa del sindaco di Farindola di spostare l'inchiesta all'Aquila. A Manoppello nasce Genetica, in arrivo 10 posti di lavoro, la Val Pescara punta sul digitale. In basso, nominati nuovi parroci a Bolognano e San Valentino dalla diocesi di Chieti Vasto, i due centri sono in provincia di Pescara, ma appartengono proprio alla diocesi Teatina e poi a Penne acquistati 5 nuovi mezzi per la raccolta differenziata. Siamo arrivati alla pagina di Chieti del centro, ma dobbiamo fermarci per qualche istante e andare a vedere insieme le previsioni del tempo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci in studio per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo e ripartiamo dalle pagine del centro. Eravamo alla pagina relativa a Chieti, a Chieti provincia. Siamo alla tragedia di sabato scorso sulla Fondovalle. Aurora muore tre giorni dopo lo schianto. Non ce l'ha fatta la 22enne di Palombaro che era stata trasferita all'ospedale di Pescara. Donate le corne. Lo studente alla guida rischia l'accusa di omicidio stradale. Poi a Vasto ha avuto contro il Grail, ma non fu colpa di un selfie. E poi Chieti, pedofili accuse confermate contro l'allenatore di baseball. Siamo alla pagina dell'Aquila. In questo caso si parla del ballottaggio. Caccia i voti dei perdenti. Biondi, l'esponente del centro-destra, dice siamo sicuri di farcela. Di Benedetto, il nostro elettorato, ribatte e compatto. E vedete a fondo pagina Mattarella, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà all'Aquila il prossimo 21 giugno per partecipare alle celebrazioni per l'anniversario della Fondazione e della Guardia di Finanza. Siamo alla pagina di Teramo e della provincia. In questo caso siamo a Silvi, inferno in famiglia, massacre fratello per soldi, arrestato. I carabinieri scoprono una lunga storia di violenze. La vittima è prestata più volte e addirittura buttata giù dal balcone. A Giulia Nova, insegna a fuoco del corallo evacuato per sicurezza. E poi a Teramo, si parla del Consiglio Comunale e dunque di politica, perché il sindaco Maurizio Brucchi ritrova i numeri in aula, ma la crisi non è ancora finita. E poi, parlando di sanità, al via i concorsi per primari e infermieri, pubblicati infatti bandi per sette direttori. Presto altri dieci, attesi diecimila concorrenti per il personale non medico. Siamo arrivati alla pagina della cultura, ma io direi, se è possibile, di fare un passo indietro, di tornare alla cronaca regionale, perché ieri c'è stato il bilancio fatto in regione, per quanto riguarda l'Abruzzo, Open Summer Day, nove giorni di eventi per la nostra regione. Ecco qui l'articolo che prontamente ci mostra Maurizio D'Aguì, Abruzzo Open Day, vinta la sfida, il bilancio di questi nove giorni di iniziative ed eventi, che è stato affidato ieri al direttore del Dipartimento Turismo del Regione, Giancarlo Zappacosta, che andiamo ad ascoltare. Direttore Zappacosta, allora bilancio per quanto riguarda l'Abruzzo Open Day, numeri positivi per questa iniziativa che avete voluto fortemente? Sì, abbiamo voluto fortemente, un'iniziativa è partita da un'idea, a mio parere, vincente del Presidente D'Alfonso, l'abbiamo sviluppata condividendole con i territori, condividendola con i territori, e naturalmente abbiamo, dopo un numero zero dell'Open Day Winter, dato in mano alle DMC, l'organizzazione complessiva e anche la cernita delle eccellenze sul territorio stesso, e abbiamo verificato che tutte quelle manifestazioni, quegli eventi, quei prodotti di esperienza radicati sul territorio hanno avuto un'esplosione e una piacevolezza e anche un gradimento che io definirei insperato. perché questa regione ha bisogno di essere raccontata, ha bisogno di essere offerta, ha bisogno di essere mostrata e ha bisogno di essere comunicata. Noi abbiamo usato canali straordinari per comunicare, abbiamo avuto da parte nostra anche l'appoggio della RAI e l'appoggio delle testate giornalistiche più importanti che hanno fatto in modo, e adesso ne vediamo gli effetti, perché il New York Times fra poco sarà da noi per fare uno special sull'Abruzzo, PBS, Rete Americana sarà con noi e CNN sarà con noi per dare lo spaccato di questa regione che vuole uscire dai confini ristretti di una regione così detto avvocata soltanto al vincolo e alla tutela, ma è una regione che in plein air può dare un'ampia diversificazione di prodotti. Quanti sono stati gli eventi? 194 eventi come si dice diluiti in nove giorni c'è stata una specie di corsa all'evento alcuni hanno avuto un successo straordinario qualcuno sarà anche esportato all'estero. E questo dunque il bilancio dell'Abruzzo Open Summer Day noi lasciamo dunque almeno per il momento le pagine del centro poi torneremo a leggere insieme quelle riguardanti lo sport e andiamo a vedere invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero oggi in edicolo diverse le pagine dedicate all'analisi e al dopo amministrative si parte dall'Aquila l'Aquila l'Aquila Anatra Zoppa con i conteggi e due gialli una recente sentenza del Consiglio di Stato salva il premio di maggioranza per biondi in via di chiusura le operazioni per le famigerate sezioni 26 e 72 e poi Pagano il voto ci premia Pietrucci vinceremo noi abbiamo ascoltato prima nella prima parte di mattino 6 proprio il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano e poi invece vedete nella pagina successiva Biondi l'esponente del centrodestra vede la rimonta l'evento dice e dalla nostra parte noi lo andiamo ad ascoltare La partita del ballottaggio delle elezioni comunali dell'Aquila è ancora apertissima ad assicurarlo il candidato della coalizione di centrodestra Pierluigi Biondi che nelle prossime due settimane dovrà colmare il divario di ben 11 punti percentuale oltre 4.300 preferenze con il candidato del centrosinistra Americo Di Benedetto che ha ottenuto il 47,1% contro il 35,9% di Biondi decisivo sarà spiegato Biondi appellarsi ai cittadini liberi che desiderano il cambiamento e che hanno votato gli altri candidati sindaci ora fuori dai giochi tutti nessuno escluso dagli arancioni di Carla Cimoroni a Claudio Appagliariccio di Casa Pound passando per Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle ed ai civici Nicola Trifuoggi e Giancarlo Silveri ma ribadisce Biondi nessun apparentamento adesso si apre una nuova partita in cui parleremo liberamente agli aquilani chiedendogli di scegliere fra la continuità e il cambiamento noi non è che dialogheremo con i candidati sindaco perché hanno detto tutti chiaramente che lasceranno libertà di voto noi dobbiamo parlare alla testa e al cuore di quegli elettori ma anche di quelli che non sono andati a votare ma anche di quelli che sono andati a votare centrosinistra ma l'hanno fatto perché magari erano obbligati per tutta una serie di ragioni degli obblighi morali o degli obblighi familiari o sulla base di una gestione di potere che comunque c'è stata e che oggi tornano ad essere elettori liberi dobbiamo offrire una proposta alternativa di governo semplicemente intanto Di Benedetto dice niente confronti con l'avversario e poi in basso prime ipotesi per la nuova giunta otto assessori per nove liste andiamo ancora avanti con l'analisi del voto di Avezzano De Angelis a caccia dell'impresa Di Pangrazio avanti sindaco uscente di ben 2500 voti meno consensi di quelli delle sue liste il giallo della sezione 21 ancora in panne da scrutare e assegnare 9000 schede e poi ad Ortona la contesa tra volti nuovi regna l'equilibrio al ballottaggio vanno Castiglione e Marcheggiano Martinsicuro Vagnoni vicino alla meta pochi voti per vincere e siamo a Pescara lasciamo la pagina politica per parlare del giallo dell'acqua dal pessimo odore emergenza in piena notte in via De Marsi e via Spartaco di vieto assoluto di uso alimentare in attesa delle analisi Arta un centinaio di famiglie colpite dall'ordinanza del comune l'acca provveduto al lavaggio completo della conduttura e poi il caso Soget Mazzocca denuncia l'azienda idrica mentre la buona azione che arriva sempre da Pescara restituisce 1000 euro trovati per strada filovia piste ciclabili ZTL piace la mobilità sostenibile il piano dell'assessore Civitarese supera l'esame di associazioni e comitati unici dubbi sulla tutela della strada parco pasta legumi barrette segreti a tavola degli uomini di ferro alla vigilia della gara di domenica e parliamo dell'Iron Man Claudio Patacca biologo e nutrizionista svela la dieta per resistere all'Iron Man 70.3 e poi il progetto contestato vedete questo articolo in alto del nuovo stadio no ai negozi i dubbi del centro-destra poi la cronaca ustionato in cantiere scatta l'inchiesta un cinquantenne ferito mentre stava effettuando una saldatura di binari alla stazione di Porta Nuova di Pescara è stato poi trasferito all'ospedale Sant'Eugenio di Roma c'è l'inchiesta da parte degli uomini della Polfer guidati da Davide Zaccone e poi la salute è ritrovata grazie a una sanità di eccellenza stremato dalla fatica uno dei soccorritori di Rigopiano è stato operato a Campobasso dal cardiochirurgo pescarese Canosa siamo alla pagina dell'area metropolitana torniamo alla situazione di Via Riosto a Montesilvano le tende degli irriducibili un nucleo dei senegalesi sfrattati dalle palazzine Ghetto rifiuta sistemazioni alternative si è accampato in spiaggia occupata una porzione dell'arenile tra l'hotel Silaion e lo stabilimento Tamanco una situazione esplosiva e poi l'arresto nascondeva in casa un etto di marijuana e poi invece per quanto riguarda la vicenda dell'hotel di Rigopiano parla la sorella di Roberto del Rosso dice Roberto racconta Roberto è il sogno dello sviluppo della montagna tornando a Montesilvano si parla della differenziata della raccolta differenziata tutto ok tariffe sui rifiuti tra gioie e dolori positivo esperimento alcol e punte dell'87% balneatori e gestori dei locali contro la stangata ma in via Vestina e dintorni protestano i residenti anziani che dicono cassonetti troppo distanti e poi si torna a parlare qui dalle pagine del messaggero delle amministrative si parla di spoltore vedete anche nella foto che possiamo ingrandire segno di vittoria di Luciano Dilorito che è stato rieletto sindaco per la seconda volta verso la giunta bis molte conferme e dunque un voto quasi plebiscitario per l'esponente del partito democratico nella città di spoltore siamo all'Aquila pressioni per casetta abusiva trifoggi scagionato dal GIP il giudice Giuseppe Romano Gargarella ha accolto la richiesta di archiviazione del PM escono di scena anche altre 10 persone per le quali non sono stati formalizzati reati e poi Mattarella il 21 giugno sarà all'Aquila la scuola della guardia di finanza per una visita in occasione proprio della festa delle fiamme gialle e poi a Celano la cronaca invece un'auto crivellata di colpi si ipotizza l'avvertimento droga banda dispacciatori per Goman arresto bis poi a Sulmona si parla di sanità in questo caso ambulatori dell'ospedale a fine mese via al trasloco e poi il parco del castello ad agosto partiranno i lavori all'Aquila in questa importante struttura siamo alla pagina di Chieti del messaggero abusi storie sciocche dei bambini una madre dice ora carcere a vita confermate le accuse di violenza sessuale nei confronti dell'allenatore di baseball mancano le ultime due testimonianze poi entro 90 giorni la perizia della psicologa e poi parliamo di occupazione Daico 30 ore di sciopero protesta sotto la regione i sindacati dicono niente piano industriale e 5 dipendenti a termine mandati a casa cari Chieti un attestato per pochi e insorgono sindacati e lavoratori e polemica mentre piscina comunale domani la riapertura estiva della piscina di Chieti siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona muore tre giorni dopo lo schianto torniamo su questa tragedia accaduta sabato scorso sulla Fondovalle Sangro Aurora Belardo non ce l'ha fatta la 22enne di Palombaro si è spenta all'ospedale di Pescara ultimo atto di grande generosità donate le corne della ragazza un 19enne neopatentato deve rispondere di omicidio colposo e poi a San Salvo si torna a parlare in questo caso di elezioni perché il sindaco il rieletto sindaco Tiziana Magnacca già a lavoro a sinistra umore nero e sempre a San Salvo ma cambiando decisamente argomento dopo le polemiche via Don Michele Don Michele Carlucci che lascerà come leggiamo in questo articolo la parrocchia di San Nicola a fine mese andiamo avanti pagina di Teramo e Teramo provincia sempre dal messaggero la politica in primo piano Brucchi il sindaco del capoluogo Aprutino dice la giunta è questione di cuore il sindaco si presenta senza assessori e fa mea culpa è vero ho sbagliato e si appoggia la mano sul petto poi l'affondo sono stato lasciato solo anche dagli alleati vado avanti per il bene della città e prepara il nuovo esecutivo ma i democrat prima accusano in aula poi fanno un pressing su Dalberto dicendo ripensaci il partito vorrebbe recuperare Gian Guido come capogruppo una personalità dicono di grande spessore dunque qualche problema anche all'interno del partito democratico parlando invece dell'ospedale scende in campo la confesercenti che dice il policlinico a Villa Mosca in basso niente verbali tir padroni della città i nodi del traffico in questo articolo che troviamo a fondo pagina e poi l'iniziativa della FIDAPA perché nasce l'associazione delle donne associazione tutta al femminile che raggruppa donne impegnate nelle professioni e nel sociale siamo alla pagina di Giulianova di Roseto e della Val Vibrata partiamo da Giulianova dove il sindaco Francesco Mastromauro incassa il voto di fiducia tutti d'accordo sul programma di fine legislatura compreso il gruppo di Civicamente anche se assicurerà l'appoggio esterno manutenzione piano asfalti cura del verde fra i punti condivisi per i nomi si parla di Vanni Verdecchia Ranalli no invece di Vasanella è sempre a Giulianova per quanto riguarda la sanità l'ospedale ce la conferma degli accorpamenti nella città giuliese è presentato inoltre il cartellone di Giulia Eventi 2017 ci spostiamo sulla costa e restiamo in provincia di Teramo a Silvi anni di soprusi e violenze contro il fratello arrestato l'uomo condotto dai carabinieri nella casa circondariale di Castronio dovrà rispondere di estorsione e maltrattamenti e poi a Mosciano calcio da un cavallo e in rianimazione la vittima è un medico veterinario che era a lavoro in un'azienda agricola e poi ad Alba Adriatica il ripascimento della spiaggia si farà siamo arrivati alle pagine dello sport dunque possiamo restare sul messaggero perché si parla di Pescara parla uno dei nuovi acquisti del Pescara Proietti che dice ho senso tattico e do equilibrio alla squadra spero di soddisfare le aspettative di Zeman da Baldi a D'Angelo da Immobile a Lapadula in tanti mi hanno parlato della vostra città non vedo l'ora di scoprirla e intanto il Lugano del presidente pescarese Angelo Renzetti punta su Memuschai Nicastro ex Perugia a questo punto ritorno vicino a Pescara per fine prestito per quanto riguarda gli allenatori del prossimo campionato di serie B Fabio Grosso arriva sulla panchina del Bari e da ieri il nuovo tecnico della formazione biancolossa dunque un altro pescarese su una panchina importante del campionato di serie B noi parliamo invece del Teramo il Teramo fra Campitelli e Repetto fumata grigia resta infatti da chiarire qualche divergenza sulla scelta dell'allenatore oggi arriverà la risposta definitiva e tutti si augurano che questa risposta possa essere positiva parliamo di palla a mano iscrizione a rischio per città Sant'Angelo e poi di calcio a 5 perché quella di questa sera sarà la serata decisiva nella corsa scudetto gara 4 della finale contro la Luparense ad Ancona i Veneti con il secondo match point ma il Delfino vuole il 2 a 2 oltre mille tifosi seguiranno la squadra di Colini organizzati un treno speciale e 5 pullman parliamo di pallavolo sieco dopo Taviani presi Zanini e Tartaglione mentre per la palla a nuoto club acquatico e Pescara oggi è vietato sbagliare nelle gare di playoff e play out andiamo in basso per parlare di basket Roseto se torna Marini non confermato May la permanenza di Sherrod dipende da Amoroso in casa Amatori Pescara siamo invece alla serie B c'è il saluto di coach Salvemini per la panchina si aspetta il sì di Raiola dunque che potrebbe lasciare l'attività agonistica per sedersi sulla panchina della squadra della sua città e siamo alle pagine dello sport del centro iniziamo con la pagina relativa al calcio di serie al calcio anche internazionale Juve su Douglas Costa Kalinic verso il Milan i bianconeri trattano l'esterno del Bayern valutato 50 milioni e poi in basso il basket Golden State Warriors trionfo e boigottaggio i vincitori dei playoff della NBA decidono di rifiutare l'invito alla casa bianca del presidente Trump e poi Di Francesco il nuovo allenatore della Roma dice Di Francesco torno a casa qui c'è voglia di diventare più grandi a Roma arriva anche Hector Moreno e poi guai con il fisco Ronaldo rischia il carcere il bomber del Real Madrid accusato di aver nascosto oltre 14 milioni di euro all'agenzia delle entrate per il basket di serie A c'è ancora in corso l'ultimo atto la sfida fra Trento e Venezia per la segnazione dello scudetto in serie A2 va alla Virtus Segrafedo Bologna la prima gara della finale playoff di serie A2 la vittoria dei Felsini sul Trieste per 85 a 62 e poi pattinaggio Galati Giovani a Roccaraso mentre per quanto riguarda il rugby riparte l'avventura dell'Aquila Nero Verde siamo alla pagina relativa alla serie B perché inizia a delinearsi il nuovo volto del Pescara ecco Mancuso pesca musica e gol nel sangue l'ex bomber della San Benedettese dice è l'occasione più importante della mia vita nell'ultimo torneo di Lega Pro Mancuso ha segnato 26 reti con la maglia rosso-blu della San Benedettese in Abruzzo potrebbe ritrovare Gans suo compagno nelle giovanini del Milan e intanto se salta Vido arriva Tuminello offerta del Sion ma anche del Lugano abbiamo visto per Memushai intanto un'altra notizia importante riguarda Massimo Epifani che sarà il nuovo allenatore del Pescara primavera ex tecnico del San Nicolò e poi restiamo in serie B grosso al Bari è ufficiale Oddo a Palermo con Carli in questo caso c'è ancora da lavorare da trattare Corini invece sarà il nuovo allenatore del Novara parliamo di palla a mano di serie 1 maschile il Città Sant'Angelo non si scrive Lions Teramo arriva un nuovo colpo di mercato perché la società aprutina si è assicurata le prestazioni di Pier Agostino siamo alla pagina della Lega Pro le strategie del diavolo Teramo dal pescarese Massimo D'Aversa e poi il nuovo corso di De Vincentis a Lanciano Lanciano che ripartirà con l'ormai a questo punto ex patron del Francavilla e in Casa Rossonera sono in arrivo Vastola Margarita e Marfisi ovviamente punta in alto la formazione lancianese che potrebbe ripartire in caso di ripescaggio dal campionato regionale di promozione in basso si parla di Serie D con l'Avastese che ha ufficializzato la sede del ritiro si lavorerà a Colle di Mezzo Avezzano la scelta invece si orienta verso Marino dopo il Nodi del Grosso l'ex tecnico delle Chieti potrebbe essere il nuovo allenatore della formazione marsicana e poi il Pomiglio dei Allenaiadi Amedeo Pomiglio racconta papà ovvero Gabriele Pomiglio scomparso pochi giorni fa carismatico e passionale sapeva costruire i sogni e questa sera alle 20 e 30 la prima casalinga in azzurro per il pescarese di Fulvio ci sarà la gara amichevole tra Italia e Giappone ma sempre per quanto riguarda la palla a nuoto il Pescara questa sera invasca alle 19 a Messina se vince festeggia la Prodo in Serie A2 e siamo alla pagina dedicata al calcio a 5 a gara 4 della finale scudetto del massimo campionato il Pescara questa sera ad Ancona cerca l'impresa treno bianca azzurro e 5 pullman di tifosi ad Ancona per la gara 4 con la luparense previsti ad Ancona al Pala Rossini oltre 1000 tifosi bianca azzurri e noi su questa partita andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera con il presidente della Pescara calcio a 5 Danilo Iannascoli Presidente Iannascoli quanto accaduto il primo giugno ha avvicinato ancora di più per assurdo per certi versi i tifosi alla Pescara calcio a 5 avete riempito un treno in poco meno di 3 ore domani sera ad Ancona ci saranno oltre 1000 tifosi del Pescara si oltre 1000 persone che partiranno da qui col biglietto con il treno 5 pullman e con i loro mezzi non abbiamo più pullman a disposizione e quindi queste sono le persone gli altri dovranno raggiungerci con altri mezzi guarda siamo stati tempestati c'è stata la fila qui al palazzetto ed è stato questo chiaramente un riconoscimento importantissimo per noi per noi come società ed è un'immagine della città di Pescara che ancora una volta è vicina a chi cerca di portare in alto il nome di Pescara è una squadra super spremuta ma che sicuramente darà tutto e sono convinto che quando vedranno 1000 persone sugli spalti giocheranno con ancora più forza questo sicuramente perché li conosco loro sono già partiti sanno che ieri il treno era già pieno perché quando hanno finito l'allenamento hanno visto tutti i tifosi che erano fuori però dopo sarà importante l'incitamento dei nostri sostenitori perché ripeto partiamo in questo momento per la prima volta dopo tanto tempo svantaggiati in campo non siamo noi la squadra da battere in questo momento ma è la Luparenza e da tre anni questo non c'era mai successo Poche ore dopo la gara di Ancona verrà discusso il ricorso che avete presentato contro questa maxisqualifica Sarebbe bellissimo ricevere la notizia che tutto venga annullato però dobbiamo essere realistici ci sono dei verbali ci sono delle dichiarazioni che sono state fatte dai commissari di campo e dall'arbitro in particolare quello che ha commesso tanti di quei errori in quella partita è che in uno stato confusionale in campo dopo è stato molto confuso pure nella redazione del verbale perciò speriamo almeno in una forte riduzione nei nostri confronti e sia anche riconoscente Queste le dichiarazioni del patrono del presidente del Pescara Danilo Iannascoli su questa importantissima sfida che si giocherà questa sera alle 20.30 noi siamo quasi in chiusura vediamo gli ultimi titoli che riguardano lo sport dalle pagine del centro a Catania il pugile teatino di Tonto conquista una medaglia d'oro ai campionati universitari e poi Francavilla Casali in Contrada ecco il giro Under 23 oggi e domani in Abruzzo si deciderà la corsa riservata ai migliori talenti del ciclismo in basso gli ultimi due titoli che riguardano il basket con l'amatori Pescara che si affida a Raiola per la panchina con dopo l'addio di Coach Salvemini che allenerà il Sansevero e poi la Fispic vi avevamo dato notizia nel Tg6 di ieri la Fispic incontra Mattarella il presidente abruzzese della Federazione che vede in gara in più discipline atleti disabili con difficoltà ipovedenti incontra Mattarella c'è stato questo incontro al CONI assieme al Capo dello Stato e agli esponenti dello sport italiano noi siamo dunque giunti al termine di questa edizione di mercoledì 14 giugno 2017 con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà puntuale come sempre domani alle 8 io invece vi rinnovo l'appuntamento di oggi alle 14 con la prima edizione del Tg6 ringrazio Maurizio D'Aguì in regia ringrazio voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti